altri tempi nel secolo scorso quando un gentiluomo mandava in rovina con galanteria la sua amante immediatamente vedeva crescere la propria reputazione se l'amante così spogliata era una grande dama e se essa ormai vuota la sua borsa lasciava subito il posto a un'altra che il seduttore saccheggiava con la stessa facilità e con lo stesso appetito quel gentiluomo era considerato un donnaiolo un tipo alla moda era tenuto in considerazione invidiato rispettato oggetto di celosie salutato con molto rispetto e riverito con tutti i favori dai potenti e dalle donne ahimè ahimè è passato un secolo la gioventù quella delle scuole sbandierando e praticando una morale completamente diversa da quella dei grandi signori antichi esaltandosi in nome di severi principi si precipita con furore su quei pochi esseri rimasti fedeli alle tradizioni del passato il nostro grande passato di aristocratica eleganza e li butta a mare per vedere se vanno a fondo e queste vittime che sono perseguitate ma non vengono raggiunte questi discendenti dei seduttori di un tempo sono dei disgraziati dei poveracci abbandonati dalla provvidenza senza alcuna risorsa sull'astrico di parigi nati con idee da milionari hanno esigenze di lusso che non vengono mai soddisfatte già che la loro naturale mollezza li tiene lontani dal lavoro hanno fatto un ragionamento che potrebbe anche essere giusto se non si sapesse che invece è falso esistono al mondo alcune migliaia di donne la cui professione consiste solamente nel portare gli uomini alla rovina approfittando dei sentimenti malsani che esse riescono ad ispirare loro quindi non c'è proprio niente di male se a queste donne si riprende il denaro che hanno ottenuto usando mezzi disonesti ispirando loro sentimenti certamente non meno malsani alla fine si tratta solamente di applicare il principio della medicina omeopatica alla morale il male trattato con il peggio è allora che il metodo omeopatico guarisce ma vediamo come va a finire il risultato è che i vendicatori dell'onestà sono stati battuti, imprigionati, annientati schiacciati da quel corpo armato che si incarica di vegliare sull'ordine pubblico gli annegati erano semplici e inoffensivi borghesi usciti dai loro uffici e in procinto di tornare in seno alle loro famiglie i commercianti in donne, detti il soutenere non potevano far altro che approfittare della pubblicità fatta loro gratuitamente i guardiani della pace che hanno fatto il loro dovere verranno licenziati e il capo della polizia che non ce la fa più sarà certamente destituito ordunque tutto va per il meglio e nel migliore dei modi ed ecco a che cosa servono le rivolte, le rivoluzioni, le indignazioni e in generale tutti i sentimenti coraggiosi che armano la mano degli uomini di buone intenzioni non vedo dubbio che nelle campagne c'è più saggezza la scena che segue è raccontata fedelmente l'ho vista proprio io con questi miei occhi siamo nell'aula del giudice di pace in Normandia il giudice, un uomo grosso e asmatico se ne sta seduto davanti a un largo tavolo e accanto a sé il cancelliere porta una giacca grigia con bottoni di metallo e parla lentamente mandando fuori un soffio d'aria che fischia nei suoi tubi respiratori come se si fosse verificata una fuga di gas in fondo alla grande stanza contadini in camicciotto azzurro stanno seduti su panche con il berretto o il cappello tra le gambe hanno l'aria grave, ebete e astuta e preparano mentalmente gli argomenti da portare in difesa dei loro interessi ogni tanto sputano accanto ai loro piedi infilati in scarpe grosse come barche da pesca c'è una pozza di saliva che segna il posto di ciascuno proprio di fronte al giudice dall'altra parte del tavolo stanno le parti contendenti di cui si discute la causa Querelante è una signora di campagna i suoi sanguigni cinquant'anni fiammezzano sotto il cappello che come un'insalatiera è carico di asparagi spampanati di radici e di cipolle è magrissima, puntuta, orribile e pretenziosa con quei suoi guanti di maglia e quei nastri dell'acconciatura che le volteggiano intorno alla testa come un gran pavese di una nave il convenuto, un ragazzone di 28 anni bello, paffuto e sorrione all'aria di un chierico cresciuta troppo in fretta fra i due scoccano occhiate feroci lui è assistito e sostenuto dal padre un vecchio contadino dal muso di topo e dalla moglie giovane, tutta rossa di rabbia ma bella e fresca è una ragazza di campagna sana e grassoccia carne da riproduzione buona per primeggiare in un concorso ed ecco fatto la signora, vedova di un ufficiale di sanità aveva tirato su a molliche di pane il giovane contadino e lo riservava per i propri piaceri dopo molti servizi da lui resi gli aveva regalato una piccola tenuta in segno di riconoscenza per la sua buona volontà ma il ragazzo, ricevuto la dote aveva subito preso moglie abbandonato la vecchia che, separata, reclamava i suoi beni o il ragazzo o la tenuta la scelta il giudice aveva ascoltato molto perplesso le lamentele della donna nessuno e l'uditorio rideva era una causa seria e meritava molta riflessione il giovane, quando venne la sua volta si alzò per rispondere il giudice lo interrogò che cosa avete da dire? è lei che me l'ha data la tenuta e perché ve l'ha data? che avete fatto per meritarvela? allora il giovanotto indignato diventò rosso fino alla punta delle orecchie che cosa ho fatto, caro il mio giudice di pace? sono quindici anni che mi fa fare quello che vuole sta avvelenata e questo non valeva forse qualcosa? a questo punto un mormorio si levò dagli astanti e voci convinte ripeterono sì, certo, sì una cosa valeva l'altra allora il padre giudicando che era venuto il momento di intervenire disse e a voi credete che io avrei dato a quella persona lì il mio ragazzo fin da quando aveva quindici anni se non avessi pensato di ricevere un po' di riconoscenza? allora la giovane moglie venne avanti a sua volta tutta vehemente anche lei esasperata e alzando la mano verso la signora impassibile rossa disse ma guardatela un po' sor giudice, guardatela si può forse dire che questa valesse qualche cosa? il giudice squadrò a lungo la vecchia consultò il cancelliere si convinse che in realtà l'una cosa valeva l'altra e mandò via la querelante tutti coloro che avevano assistito approvarono la decisione et nunc erudimini nonc'è ok nonc'è